C'è un nome che sta emergendo con forza nel panorama dello spettacolo italiano, portando con sé storie di talento, eredità e le sfide che derivano da una vita passata sotto i riflettori. Yasmin Carrisi, figlia dell'icona della musica italiana Albano Carrisi e di Loredana Lecciso, si apre in una rivelatrice intervista sui contrasti e le complessità di crescere in una famiglia costantemente sotto l'occhio del pubblico. Prima di immergerci in questa storia, un breve promemoria, se non vuoi perdere approfondimenti esclusivi come questo, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Yasmin Carrisi si trova al centro dell'attenzione, non solo per il prestigio del suo cognome ma per la sua stessa luminosa presenza sui social media. Recentemente, ha destato l'interesse del pubblico mostrando un anello Gucci del valore di 50 euro su Instagram, scatenando una tempesta di commenti negativi e invidia. Questo episodio è solo l'ultimo di una serie di momenti che hanno messo Yasmin sotto i riflettori, spesso esponendola a critiche e giudizi non sempre facili da gestire. Durante l'intervista, Yasmin condivide apertamente le difficoltà incontrate nel crescere con genitori famosi. La costante attenzione mediatica, le voci e le speculazioni hanno contribuito a creare un senso di disagio e il desiderio di una vita più riservata. «Non l'ho vissuta benissimo», confessa Yasmin, riferendosi alla sua infanzia. «A volte le notizie esagerate mi facevano strano. Era bizzarro che tutti sapessero o presumessero cosa accadesse in casa nostra». Uno degli aspetti più toccanti dell'intervista è il desiderio di Yasmin di aver avuto una maggiore privacy. Critica verso la scelta dei genitori di vivere tanto apertamente sotto i riflettori, Yasmin esprime un chiaro desiderio di discrezione. Avrebbe preferito che non circolasse nulla riguardo alla sua famiglia, sottolineando come questa esposizione l'abbia sicuramente formata, ma non senza difficoltà. Nonostante le turbulenze, Yasmin cerca di trovare il suo cammino, seguendo le orme del padre nel mondo dello spettacolo, ma cercando di bilanciare la sua carriera con gli studi e una vita personale che tenta di mantenere privata quanto più possibile. E tu, cosa ne pensi di Yasmin Carrisi e della sua storia? La tua opinione è importante, condividila nei commenti qui sotto. E ricorda, per continuare a seguire storie come quella di Yasmin e restare aggiornato sulle ultime notizie dal mondo dello spettacolo, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche.